Buongiorno a tutti e benvenuti alla quinta parte del corso di azzeramento di informatica. Questa sarà una puntata un po' particolare perché qui vedremo sostanzialmente delle applicazioni, di quello che abbiamo visto, quindi diciamo che siamo già un pochino al di là del vero e proprio azzeramento, nel senso che lo scopo di quest'oggi è quello di mostrarvi dei programmi ancora semplici, quindi ovviamente non complicati, che però vi possono già dare l'idea che tutto ciò che vi ho mostrato finora ha delle applicazioni molto concrete e non è distaccato dalla realtà, perché altrimenti uno potrebbe aver visto Snap come qualcosa di assolutamente scorrelato da quello di cui poi uno ha bisogno nella realtà. Quindi oggi vedremo in due parti, quindi la quinta A e la quinta B, vedremo in due sottoparti, vedremo da un lato degli esempi di che cosa si può fare con programmi semplici sul calcolatore e anche un esempio di quali siano le trappole in cui si può incorrere, in realtà abbiamo già visto qualcosa, però vedremo un esempio di trappola particolarmente subdola, che dà l'idea molto chiara di che cosa succede quando uno non ha una buona conoscenza del funzionamento del calcolatore. Allora, per ricapitolare molto brevemente, abbiamo visto all'inizio Snap, la parte prima e la parte seconda sono sostanzialmente un'introduzione alla programmazione, la parte terza è sostanzialmente la parte correlata correlata all'installazione del sistema operativo, c'è qualcosa anche di reti e anche qualcosina di web server. La parte quarta, che era l'ultima appena vista, è quella forse più significativa, nel senso che correla quello che abbiamo visto, ciò che abbiamo visto in Snap, con due linguaggi molto usati. Tenete conto che i primi tre linguaggi al mondo sono, se non ricordo male, C, Java e Python, quindi in questo modo ne abbiamo visto brevemente C e Python, e qui abbiamo visto gli esempi che avevamo visto Snap tradotti in C e Python, anche se naturalmente non abbiamo visto C e Python, perché non è certo lo scopo di queste poche ore, questo poi sarà visto nel relativo corso. Poi abbiamo anche visto qualcosa sul Raspberry, più che altro per farvi vedere qualcosa di interessante. Quindi oggi, oggi cosa vedremo? Vedremo innanzitutto una prima parte, che non abbiamo visto la volta scorsa, la volta scorsa abbiamo visto bene CodeBlocks in azione, però la volta scorsa abbiamo usato il macOS, quindi non potevo mostrarvi il CodeBlocks in funzione sotto Windows 10, l'avevamo già visto in realtà in passato, nelle puntate precedenti, però vorrei mostrarvi oggi più che altro alcuni problemi in cui può incappare il CodeBlocks, perché siccome il CodeBlocks viene usato quando viene fatto il C, è importante che voi siate in grado di fare un minimo di correzione, di troubleshooting, cioè se non vi funziona, perché non funziona? Perché il CodeBlocks funziona abbastanza bene, ha alcuni problemi che si ripetono sempre uguali, quindi se uno è in grado di risolverli ha un'ottima capacità di farlo funzionare. Ecco, e poi come vi dicevo, questa è la parte più interessante, e cioè le applicazioni dell'informatica all'ingegneria, dovevo scegliere qualcosa e ho scelto quella che secondo me è un'applicazione forse più trasversale, più utile, più interessante, poi naturalmente il mio parere, ed è la trasformata di Fourier. Adesso ovviamente la vedremo meglio, comunque ve la anticipo lì, con alcuni esempi che secondo me sono interessanti. E poi invece, quindi applicazioni dell'informatica, questa sarà sostanzialmente la puntata 5A, parte 5A, e questa sarà la parte 5B, in cui vedremo invece le problematiche. E vedremo qualcosa di abbastanza raffinato andando a guardare esempi in Snap, e poi anche in C++, soltanto ovviamente accennato, di che cosa succede quando uno fa funzionare in contemporanea più programmi, quindi programmazione per esempio multi-thread. Se vi ricordate avevamo già visto, addirittura nella prima puntata, un esempio di programma realizzato in Snap, in multi-thread, in cui noi facevamo, usevamo più pezzi di codice per incidere tutti sullo stesso sprite. E quello era tutti gli effetti in un programma multi-thread. E volevo farvi vedere qualcosa di interessante anche qua. E poi per finire, prima che me ne dimentichi, volevo ringraziare chi mi ha aiutato in questo lavoro, di queste ore di filmati, alcuni colleghi mi hanno aiutato, mi hanno dato utili suggerimenti, e poi in particolare volevo ringraziare Mario Mastrandrea, perché ha rivisto in alcuni casi più di una volta i filmati, e con tanta pazienza mi ha anche dato degli interessantissimi suggerimenti. Quindi naturalmente è chiaro che qualsiasi errore vi sia all'interno di questi filmati è comunque esclusivamente responsabilità mia. Come vi dicevo, sarà diviso in due parti, 5A e 5B, per cui direi che possiamo, a tutti gli effetti, iniziare con la parte 5A. Allora, come vi dicevo, io qua mi sono già un po' preparato le cose, perché in modo tale da ridurre il tempo impiegato, questa è la macchina Windows 10, quella che abbiamo installato e utilizzato in precedenza, io qui ho già anche lanciato il CodeBlocks, in modo tale da averlo già pronto, ecco qua, benissimo, quindi fin qua nulla di nuovo, volevo però farvi vedere che cosa può succedere. Allora, diciamo che quali sono i potenziali problemi in cui potreste incorrere utilizzando il CodeBlocks? Beh, il primo problema, quello in assoluto più diffuso, è che non ci sia il compilatore, ok? Allora, per esempio, prendiamo l'esempio che avevamo usato la prima volta, che vedete è un esempio molto semplice, ok? Vi ricordo che voi potete compilare il file, in questo modo, vedete, in questo caso mi dice che è già compilato, perché l'avevo già compilato in precedenza, posso lanciarlo così e lui mi dice, mi stampa il load e finisce lì, poi io, per esempio, premo la barra spazio e mi sparisce la finestra. Tutto a posto. In talunni casi, però, non funziona il compilatore, cioè se io faccio build, lui mi dice che non trova il compilatore, non è questo il caso. Allora, il compilatore non lo trova nell'assoluta maggioranza dei casi perché non c'è. E questo è dovuto al fatto che, se vi ricordate, quando si installa il codeblocks, bisogna scegliere dal sito il file giusto da scaricare e ricorderete, se non ricordate, andate a guardare la puntata corrispondente, dovete scaricare assolutamente il file con il compilatore min.gw installato, cioè all'interno del file. Se non scaricate quello, chiaramente il compilatore non c'è, quindi non funzionerà mai, ok? Pertanto, se vi fosse capitato questo problema, non c'è problema, disinstallate il codeblocks così com'è e lo reinstallate con il file giusto, ok? In alcuni casi, non particolarmente frequenti, può capitare che, nonostante il compilatore sia attivo, cioè sia presente sul sistema, non venga riconosciuto. Allora, andate su Settings, Compiler, vedete che vi apre questa finestra e una specie di piccolo gioco di prestigio è usare questo ResetDefaults. Ora, ResetDefaults cosa fa? Vedete, Reset Discompiler Settings to the Default, yes. Lui cosa fa? Vedete, are you really sure? Ovviamente è un'operazione che potrebbe anche avere degli effetti collaterali, ma non vi preoccupate. Vedete che lui a questo punto dice che ha individuato automaticamente il path del compilatore. Potrebbe capitare in vari casi che il compilatore ci sia, cioè voi abbiate scaricato il file giusto, ma lui per qualche motivo durante l'installazione non l'abbia individuato. Con questo ResetDefaults è in grado di ritrovarlo e normalmente funziona. Per cui io faccio così e a questo punto, in realtà qui funzionava già prima, però vi dico che in gran parte dei casi, qualora il compilatore ci sia, il ResetDefaults risolve il problema. Ok? Però prima cosa verificate di aver scaricato il file giusto. Ok, talvolta però vi avevo detto che, che avevamo visto l'ultima volta, che non c'è solo il compilatore, c'è anche il Debugger. Il Debugger è utilissimo per i nostri scopi. Ebbene, allora come possiamo fare a debaggare il nostro file? Facciamo così, ok? Faccio Start, Continue. Ecco, vedete che qua si presenta il secondo possibile problema che noi possiamo avere. Vedete, qui notate che io ho installato il file comprensivo di Compilatore Debugger, ma se voi andate a guardare qua, c'è scritto che Errore. Ok? E voi dovete specificare un Debugger nei settaggi del Debugger. In particolar modo per il compilatore MinGW, che è quello che abbiamo noi, dovete scrivere GDB, che sta per il New Debugger, che abbiamo già visto, all'interno della voce opportuna. Ok? Allora, tenete presente che in questo caso il Debugger c'è, però per qualche motivo non viene riconosciuto. Allora, noi andiamo su Settings. Ripeto, è una cosa che può capitare, ok? Io vi sto illustrando una casistica vista in variati anni, che di solito risolve i problemi. Poi è chiaro che può sempre capitare il caso eccezionale, però in generale, se seguite questa, diciamo, lista di possibili problemi, dovreste riuscire a risolvere tutto. Allora, vedete, voi andate su Debugger, Allora, voi avete una prima possibilità. Cliccate qua e provate la magia del Reset Defaults, ok? Anche qua. Benissimo, proviamo a vedere se ha funzionato. Allora, riproviamoci. Start Continuo, non ha funzionato, per sicurezza lo facciamo ripartire. E vedete che continua a non funzionare, ok? Allora, in tal caso, se il Reset Default non funziona, bisogna seguire quello che dice qua, e cioè Settings, Debugger. Poi dovete andare a cliccare qui su Default, e poi vedete che qua in rosso dice Executable Path, per cui lì si aspetta il percorso del Debugger, cioè dove andare a trovare il Debugger, ok? Ovviamente, se il Debugger non c'è, lui non lo può utilizzare. Allora, qui sotto vi suggerisce di scrivere gdb.exe, ok? Senza gli apici. Ma io vi dico in verità di scrivere gdb32.exe, ok? gdb32.exe, poi fate ok, e a questo punto, se voi fate Start, vedete che il compilatore ha funzionato, scusa, il Debugger, scusate, il Debugger ha funzionato, ok? Adesso qui noi non avevamo messo nessun Breakpoint, per esempio proviamo a mettere un Breakpoint qua, lo facciamo ripartire, e come potete vedere, come abbiamo visto ampiamente la volta scorsa, il triangolino giallo indica la prossima istruzione da eseguire, e il pallino rosso indica il Breakpoint, quindi il punto di Stop che noi abbiamo settato. quindi sta funzionando correttamente, ok? Adesso blocchiamo il Debugger, tanto in realtà in questo caso non ci interessa, e siamo a posto. Quindi abbiamo visto sostanzialmente il modo per risolvere quasi tutti i problemi noti, c'è ancora una cosa che capita ogni anno, ok? Ve l'ho già accennata, ve la ripeto perché è importantissima, non, per favore, mettete mai, dove mai significa mai, spazi all'interno dei nomi di file, quindi per esempio un nome di file del tipo esercizio es settimana 2, es set 2, esercizio settimana 2, non scrivete es spazio set spazio 2, ok? Perché in teoria sia sotto Windows che sotto Linux che sotto Mac OS X funziona, e in effetti normalmente funziona. Tuttavia con alcuni programmi, e con Blox è uno di questi, la commistione tra il cosiddetto vecchio sistema che non prevedeva gli spazi a tutti gli effetti, e il nuovo sistema fa sì che si verifichino effetti collaterali strani, per cui ogni anno sistematicamente a me capita una persona che così, ovviamente senza farlo apposta, ha messo uno spazio all'interno del nome del file, ma non necessariamente all'interno del nome di quel file, potrebbe anche essere nel nome di una sottodirector che lui ha realizzato e in cui poi ha realizzato il blocco, ok? Usate gli underscore, ok? O il trattino, usate quello che vi pare, ma non lo spazio, perché è deleterio. Ok? Benissimo, allora direi che con questo abbiamo finito. Allora, abbiamo visto sostanzialmente i punti critici. Adesso, scusate un attimo, qui facciamo così, quit, e poi questa macchina virtuale la spegniamo, perché così abbiamo un po' più di memoria libera. e possiamo procedere. Benissimo, allora, stavamo dicendo, sostanzialmente abbiamo parlato dell'argomento di oggi principale, e cioè le applicazioni dell'informatica all'ingegneria. Ora, vi ho detto che dovevo scegliere un'applicazione, l'ho trovata, ho individuato quella che secondo me era più adatta, ed è la trasformata di Fourier. Ora, la trasformata di Fourier normalmente non viene fatta alle scuole superiori, salvo rari casi. In effetti, da un punto di vista matematico, è decisamente complessa, però, in realtà, se uno la vede da un punto di vista pratico, è piuttosto semplice, anzi direi che è intuitiva. E io, ovviamente, ve la mostrerò dal punto di vista più intuitivo. Però, vi ho detto che questo serve a dimostrare come un programma semplice possa fare cose interessanti. In che linguaggio, dunque, scriviamo questo nostro programma? Lo realizzeremo in Python. Si potrebbe anche fare in C, naturalmente, ma in C diventa molto più complicato, mentre in Python vedrete che realizzare questa trasformata di Fourier è incredibilmente banale, nel senso che Python utilizza delle librerie per fare questo tipo di mestiere, tra l'altro, solitamente queste librerie sono scritte in C, e quindi il Python ci semplifica la vita in una maniera tale che, francamente, rende il tutto davvero molto semplice. Allora, per quale motivo, dunque, ho scelto Python? Perché Python è un linguaggio molto adatto alle applicazioni, soprattutto per la loro prototipazione rapida, e soprattutto, se vogliamo, Python è ormai il riferimento indiscusso per ciò che riguarda il machine learning, tanto per darvi un'idea dell'importanza di Python, forse vi avevo accennato qualcosa, stanno cominciando a costruire i primi computer quantistici, e tutti i costruttori di computer quantistici, principalmente IBM, hanno scelto Python come linguaggio di interfaccia per il computer quantistico, quindi significa che ha comunque un'ottima cassa di risonanza. Per darvi un'idea, viene usato Python anche per applicazioni di computer vision. Io ho un corso che si chiama Image Processing e computer vision e con il mio collega Luigi De Russis lo usiamo per le esercitazioni. In passato avevamo usato il C++ e anche Java, però adesso usiamo Python. Il problema principale di Python, se volete, è che è un po' lontano dall'hardware, ok? Mentre C è molto più vicino all'hardware. Però, nel complesso, il risultato è molto valido, e diciamo che sono due ambiti diversi. Poi, come vi dicevo, forse i tre principali linguaggi sono più usati dal punto di vista pratico dei programmatori, sono C, Python e Java, e quindi diciamo che Python è sicuramente il più adatto per la prototipazione rapida. Quindi, torniamo alla nostra FFT. Allora, noi non vedremo la definizione matematica di FFT perché è un discreto pasticcio, ma vedremo come in realtà noi stessi l'FFT l'abbiamo tutti quasi, io suppongo, vista tutti noi, ok? In un modo, se vogliamo, un po' senza neanche farci caso, ok? Allora, per mostrarvi che cos'è l'FFT da un punto di vista puramente intuitivo, ho preso da internet, nel pubblico dominio, un brano musicale per Elisa, ok? È un brano naturalmente molto famoso. Adesso proviamo a vederlo con questo programma qui, vedete il BLC, che è un programma open source, quindi potete scaricarlo, installarvelo anche sul vostro computer, e che permette di vedere filmati, vedere e sentire audio, insomma, programma di questo tipo. Notate che questo fa parte, questa directory fa parte del materiale che ovviamente avrete a disposizione. Bene, allora, proviamo a far partire questo audio, ok? Adesso, vedete che è partita la registrazione, allora, tanto per cominciare, noi attiviamo questo, che è a tutti gli effetti un equalizzatore, ok? Però, prima facciamo partire anche un'altra cosa, sono tutte opzioni normalmente presenti. Eccolo qua. Allora, vedete, questo è lo spettro, ok? Ora, che cosa succede se io faccio una cosa di questo genere, acuti a fondo? Sentite? È cambiato completamente il suono. Dopodiché, se io voglio, lo rimetto classica. E vedete che il suono, di colpo, diventa più gradevole, no? Infatti, non per niente, questo settaggio era per la musica classica. Se voglio, ci metto piatta, oppure bassi a fondo. Sentite? La musica ha i bassi più forti, ok? Ora, che cosa vuol dire bassi? Ora, se voi andate a guardare qua, qui, noi abbiamo, sia qui che qui, abbiamo ciascuna di queste barrette, di questo istogramma. Pettate a basso un po' l'olume perché se vuoi qua. Ok. Allora, ciascuna di queste barrette rappresenta un blocchetto di frequenze. Qui ci sono i bassi, qui ci sono le frequenze intermedie e qui ci sono gli alti. Ora, noi stiamo guardando, di fatto, la trasformata di furie del segnale. Quindi stiamo vedendo che i segnali bassi sono più intensi dei segnali alti. Allora, noi diciamo, va bene, però io voglio sentire più gli alti. Allora, cosa faccio? Prendo il settaggio acuti. Vedete? Sentite? Sentite come gli acuti sono più intensi adesso? E anche questo istogramma adesso è diventato più piatto perché io ho rinforzato gli acuti. che poi non vada tanto bene per la musica classica è un altro discorso. Però vedete? Io ho cambiato questi settaggi. Scusate, abbassa ancora il volume perché se no poi non si sente più niente. Allora, io che cosa posso fare? posso andare a modificare questi, ok? Per esempio, io qua ho ridotto moltissimo tutti gli acuti, ok? Adesso lo facciamo magari ripartire, perché... Eccolo qua. Rialziamo un po' il volume. Ecco, vedete? Vedete l'effetto? Se io tiro giù gli alti e poi tiro su i bassi sentite come il suono sembra più pieno? Perché io ho alzato i bassi? Allora, perché vi ho detto che la trasformata di furia in fondo l'abbiamo vista tutti? Perché questo è l'equalizzatore. L'equalizzatore viene usato ad esempio nelle discoteche ma anche negli stereo sull'autoradio oppure addirittura sui programmi per cellulare quindi tutti i sistemi che vengono usati per mostrare, per sentire la musica hanno di solito hanno di solito la possibilità di regolare i bassi, gli alti, ok? Ora, tutte le volte che voi regolate i bassi o regolate gli alti state interferendo con la trasformata di furia e che cos'è la trasformata di furia? Dunque, infine è una rappresentazione grafica dell'energia che hanno le varie frequenze quindi è un po' i matematici mi perdoneranno ma sostanzialmente l'altezza di questa barretta indica quanta energia c'è in quella tipo di frequenze quindi in questo caso per esempio se io metto classica ok? Vedete che in questo caso posso dire che i bassi hanno più energia degli alti ok? Quindi le frequenze più ridotte quindi vi ricordo che diciamo le frequenze udibili vanno per convenzione da 20 Hz a 20 kHz ok? Quindi diciamo che le frequenze più basse diciamo 100, 200, 500, 1000 Hz sono qua ok? E sono più per così dire energetiche delle frequenze più alte bene allora voi direte a cosa ci serve? Allora beh a parte questo esempio in cui noi vedete riusciamo a vedere l'energia che c'è dentro al nostro brano musicale e riusciamo anche a cambiarla andando con l'equalizzatore a cambiare l'effetto delle varie bande benissimo però allora a questo punto voi direte bene interessante però a cosa ci serve? Benissimo allora chiudiamo questo VLC e proviamo invece adesso io però devo rialzare questo perché mi serve ok? Allora quindi in sostanza che cos'è questo FFT? È una rappresentazione frequenza per frequenza lasciatemi dire di quanta energia c'è nel segnale che cosa vuol dire? Vuol dire che io scompongo dal punto di vista matematico un segnale in una somma di segnali ciascuno dei quali lo potete vedere come una sinusoide che ha quindi la sua frequenza precisa e che quindi avrà davanti un coefficiente per dargli un po' di più energia o meno energia ok? Inoltre queste sinusoidi potrebbero essere sfasate tra di loro però adesso questo lo vedremo meglio ok? Ora come facciamo dunque a provare a vedere un esempio di questo tipo perché ripeto questo serviva soltanto a darvi l'idea di che cos'è l'FFT a cosa ci può servire sostanzialmente ma adesso andiamo a vedere un altro esempio che secondo me è più interessante ora vedete questo è un diapason ok? viene usato nei cori nelle orchestre per sintonizzare gli strumenti e in particolar modo questo è un diapason a 440 Hz ok? 440 Hz è sostanzialmente quello che viene chiamato il La4 ok? oppure anche A4 nella notazione anglosassone talvolta nella notazione italiana veniva chiamato l'A3 però dove 3 e 4 è il numero dell'ottava comunque questo è un altro discorso questo oggetto se penso ovviamente lo conosciate se viene percosso produce una risonanza tra i due Rebbi penso che si chiamino così e il tutto produce una nota dovuta alla lunghezza sostanzialmente di questi oggetti alla forma ok? per motivi meccanici ora se io provo a batterlo poi lo avvicinerò al microfono e si sentirà il 440 Hz ci riprovo ok bene ora voi direte cosa ce ne facciamo adesso facciamo un esempio e passiamo dunque a vedere qualcosa di concreto allora qui mandiamo tutto schermo ecco qua ah ho dimenticato però di farvi vedere una cosa allora qui cominciamo quindi con questo là allora il là del diapason prima ho cercato di farvelo sentire ma non so se si è sentito bene però io cosa ho fatto per fare i miei esperimenti ho preso il mio telefonino il mio telefono ho scaricato un'applicazione per registrare un voice recorder e però se lo volete fare anche voi ovviamente lo potete fare l'unica cosa è che dovete scaricare un'applicazione che sia in grado di salvare i file in formato wave cioè wav ok perché il formato mp3 non va bene perché è un formato compresso quindi dovete però in generale quasi tutte le applicazioni permettono di scegliere per esempio tra l'mp3 o l'ogg e il il wave deve poter salvare un wave ora io cosa ho fatto ho fatto la stessa cosa che ho fatto vedere prima vi ho fatto vedere prima e ho salvato un wave sentiamo questo wave vedete quindi questo è la del diapason ok ok dopodiché cosa ho fatto ho chiesto a una mia collega che canta nel coro del Politecnico di Torino di cantarmi un la e quindi questo è un la di una persona quindi sentite è decisamente più bello rispetto al la del diapason che per così dire è molto monocromatico e in effetti l'espressione non è errata e questo infine è un la sempre registrato col telefonino nel pianoforte che forse avrete notato essere posizionato vicino all'alla 1 che è un pianoforte donato da Maria Rosa Caire sentite il la sempre il la 4 ok se ci fate caso questo la è ancora decisamente più ricco del la della voce umana ok dove è più ricco adesso vedremo cosa vuol dire perché proprio lì la parte interessante ok bene però voi direte va bene però cosa ci facciamo allora la potenza di questi programmini che voglio farvi vedere consiste nel fatto che voi potete analizzare questi segnali con poche righe di un programma Python ok allora prendiamo qui eccolo qua allora qui vedete ho già delle finestre perché purtroppo sul mio Mac è molto più rapido ma sul sotto Windows è più lento non so perché e quindi ho preferito aprire le finestre perché altrimenti impiega parecchi secondi e noi qui abbiamo delle esigenze di tempo allora il programma in questione è quello lì nano spettrogramma punto py ok questo è il programma in realtà è un programma molto semplice vi ricordo che in questo caso il rosso scusate provo magari ad aumentare un po' ecco qua così si vede meglio eccolo qua allora vedete che qua ci sono un po' di commenti allora notate che qui io ho messo il percorso del del Python 3 la versione 3 di Python per Linux nel file che trovate nello zip c'è il percorso che è giusto per il mio Macintosh che è un po' diverso ok quindi se voi lanciate il programma così com'è nello zip non funziona perché non trova il Python e quindi lo dovete sostituire quindi dovete fare which python come avevo fatto io vi avevo già fatto vedere lui ve lo trova insomma dovete insomma minimo arrangiare a questo punto il programma è eseguibile e funziona in questa maniera vedete io lancio il programma e gli devo dare come parametro su linea di comando quindi come come parametro addizionale il nome del file wave che voglio analizzare ok qui sostanzialmente ho riassunto in queste poche righe quello che avevamo già visto in precedenza per chi insomma volesse semplicemente vederlo di qua poi vedete che questo è il programma Python che fa tutto e cosa fa produce questo questo tipo di finestre che adesso vedremo sono molto raffinate ora cosa faccio innanzitutto importo delle librerie ok sono librerie che come potete capire servono per disegnare plotlib e sono anche librerie di tipo scientifico e anche di sistema per caricare i file wave ok in modo tale da fare la lettura e seguire la lettura con grande facilità benissimo ah notate anche che se voi volete lanciare questi stessi programmi sotto Windows o sotto Macintosh potete farlo nessuno ve lo vieta ma dovete comunque sempre verificare di installare le librerie per Python che avevamo visto la volta scorsa tramite il pip 3 che serve appunto a installare le librerie quindi dovete seguire lo stesso sistema altrimenti non vi trova le librerie ok bene allora vediamo il programma vero e proprio questa riga legge il file wave tutto lì finito questo sys.rvd1 è un modo per leggere il parametro su linea di comando che nel segue nel nome del programma segue ed è il nome del file da trattare ok si chiamano parametri su linea di comando li vedrete nel corso in realtà è una cosa molto semplice dopodiché questo per esempio serve a mettere un titolo alla finestra ok tutte cose che volendo si potrebbero non fare anche questo vedete che questo questi tre i pezzi che seguono sono quelli che effettivamente disegnano in particolar modo questo pezzo plot signal data disegna il segnale poi questo pezzo qua sotto disegna lo spettrogramma ok adesso vedremo bene notate che la gran parte delle righe serve a dirgli quanto devono essere grandi gli assi ok e cosa ci deve essere scritto sugli assi perché in effetti l'unica vera linea è questa e qui l'unica vera linea è questa ok e poi la terza il terzo blocchettino produce questo terzo blocco che è questo qua e cioè plotta la magnitudine dell'FFT ok e anche qui abbiamo questa parte è finito lì e poi per finire questo serve per formattarlo graficamente e questo mostra a video i grafici ok non andiamo nel dettaglio perché ovviamente questo non è un corso di Python chi è interessato prende il file dal materiale e se lo guarda per bene e non è così complicato ok poi questo è un programma molto semplice non ha IF non ha cicli non ha assolutamente niente benissimo allora abbiamo detto che vi ho fatto sentire il diapason per cui siccome abbiamo visto il diapason la prima cosa da fare è provare a vedere con questo programma come funziona il diapason allora noi cosa facciamo proviamo a lanciare il nostro programma notate che ho usato tab e su là vedete se io faccio un paio di tab faccio là diapason ok poi ci metto l'ai commerciale per mandarlo in background allora se io adesso schiaccio enter lui mi genererà un grafico come questo però è molto più semplice perché il diapason ovviamente è un segnale più semplice che è questo ok ci impiega relativamente poco eccolo qua allora il motivo per cui vi ho ho scelto l'FFT è perché vedere questo grafico dal punto di vista ingegneristico è uno spettacolo almeno per me capite abbiate pazienza allora guardate qua il diapason è un oscillatore armonico smorzato perché a tutti gli effetti io gli do il colpo lui comincia a oscillare e poi pian piano la sua oscillazione si smorza e allora vedete che questo è sostanzialmente la funzione y uguale f di x dove la x è il tempo ok qui sulle scisse c'è il tempo il tempo però non è in secondi è in campioni adesso vedremo cos'è e qui c'è l'ampiezza ok l'ampiezza è vista su 16 bit anche qui vedremo brevemente cos'è però voglio farvi vedere prima un'altra cosa notate la potenza di quello che si può fare con poche righe di python io ho a disposizione tutti questi sistemi e in particolar modo questa mi serve come zoom allora io vado qua e mi prendo un pezzettino di finestra eccolo qua il mio segnale adesso comincia a vedersi ma io lo ingrandisco ancora eccolo qua allora questo segnale permettetevi il termine è uno spettacolo perché è una sinusoide praticamente perfetta ok è davvero notevole e questo significa che il il diapason è un sostanzialmente un segnale a una sola frequenza e quindi a tutti gli effetti come vi dicevo prima se io ne faccio le fft vorrà dire che se vi ricordate prima io avevo il suono del mio brano e questo suono era composto da tante note che si mescolavano tutte assieme e quindi io avevo dei suoni più bassi dei suoni più alti dei suoni intermedi ed erano tutti più o meno mischiati assieme anche a caso del funzionamento meccanico del pianoforte della tastiera che ha usato questo signore per suonare quel brano qui abbiamo sostanzialmente una nota singola ok un 440 Hz allora questo è l'equivalente di quello che noi vedevamo sul VLC là noi vedevamo vedete qui qui c'è sostanzialmente 0 20 Hz più o meno e questa è una scala logaritmica quindi questi sono 1000 Hz scusate 100 Hz questi sono 1000 Hz 2000 3000 4000 5000 6000 Hz 100 Hz 200 Hz 300 Hz 400 fino a 1000 Hz ora l'altra scala era lineare questa è logaritmica non solo per motivi di visualizzazione ora semilogaritmica perché qui non è logaritmica e qui c'è una magnitudine un valore che non staremo a sindacare ok un'ampiezza ok di questo spettro quindi questo significa che qui c'è una sola nota mentre là avevamo tantissime note sia basse che alte quindi abbiamo una sola proviamo ad andarla a ingrandire ok sempre come abbiamo visto prima la ingrandiamo scusate ecco qua ecco vedete adesso la ingrandiamo ancora ecco qua eccola qui vedete questo è il 4 vedi vedete 4.404 per 10 alla seconda significa che il centro di questa nota è 440,4 Hz in sostanza il diapason se tutto funziona ammesso che tutto funzioni ha un errore di 4 decimi di Hz ok ammesso naturalmente che sia giusto il mio perché naturalmente il segnale è stato preso con un telefonino che insomma non è esattamente uno strumento di alta precisione ora quindi questo significa che se io vado a guardare qua vedete io posso anche tornare indietro vedete significa che io qua ho sostanzialmente nulla su tutto il fronte tranne che qua quindi io qui ho soltanto un segnale quando io sentivo il mio brano per Elisa avevo tutta una serie di note qua qua da tutte le parti e con l'equalizzatore io potevo per così dire alzare il volume di queste note ma non di queste quando voi alzate il volume dello stereo alzate il volume di tutto mentre con l'equalizzatore io potevo alzare il volume solo delle note più basse oppure solo delle note più alte ok in questo caso c'è proprio solo una nota questo spettrogramma è un'altra visualizzazione che però è fatta al contrario vedete qui avete i secondi quindi man mano che passa il tempo e qui avete le frequenze allora vedete poi qui c'è una colorazione ok un modo di colorare una palette di colori e vedete che qui è molto chiaramente questo è il nostro là quindi significa che io vado da 0 Hz qui sotto a 6000 più o meno e qui c'è il mio là se io adesso ingrandisco con lo stesso sistema di prima questo pezzo aspettate ecco faccio così ecco qua vedete qui c'è il mio segnale allora se io vado qua se andate a guardare sotto vedete guardate qui in questa zona se andate a guardare sotto qui con una certa precisione insomma con una precisione non elevatissima perché è un po' impreciso la faccenda vedete che ci sono 440 Hz questa è la mia nota ok quindi se io torno indietro vedete che questa è a tutti gli effetti la mia nota il mio là quindi in sostanza se voi prendete questo lo girate di 90 gradi e ottenete questo però questo è sulla media di tutto il tempo e questo invece è istante per istante con certe limitazioni questo invece è proprio la funzione y uguale f di x o per meglio dire y uguale f di t dove t è il tempo ok però qui c'è un altro concetto adesso io qui sto spaziando in concetti che con l'informatica hanno a che fare ma fino a un certo punto perché questi sono concetti tipici dell'ingegneria notate che sto raccontando cose che vedrete decisamente più avanti e sono cose tipiche di tutti ma proprio tutti i campi dell'ingegneria perché quello che vi sto raccontando è una cosa usata da tutti ok è usata in ambito dell'ingegneria civile edile è usatissima nel campo dell'ingegneria meccanica viene usato per l'ingegneria elettronica ma viene usato per esempio per l'ingegneria informatica adesso poi vi farò anche vedere un esempio in merito perché naturalmente bene o male io mi occupo di quello allora però la cosa interessante è questa qua che adesso vorrei farvi notare allora qui in sostanza in ascissa c'è il tempo perché questo è il segnale del diapason mentre passa il tempo ma non viene misurato in secondi viene misurato in campioni perché la mia sinusoide viene come si dice campionata cioè vengono presi dei valori della sinusoide e questi valori vengono trasformati in numeri digitali che vengono messi su 16 bit in questo caso ok notate che tutto questo lavoro lo fa il telefonino con il programma di voice recorder ok qui il programma mio python si occupa semplicemente di visualizzarlo non fa nient'altro ok ora quindi cosa succede succede che questo è vedete una sinusoide quasi perfetta quanto è lungo il periodo di una di queste sinusoidi proviamo a ingrandire meglio e lo scopriremo allora per esempio partiamo da qua scusate allora partiamo da qua per esempio e facciamo così eccolo qua vedete questo è il nostro periodo vedete che qualche piccola irregolarità c'è allora queste piccole irregolarità dove sono e in realtà se voi andate a guardare lo spettro qua ci sono da qualche parte qualche piccola irregolarità c'è però è veramente piccolissima allora andate a guardare qui c'è scritto 193.780 sono proprio i campioni ok e sono 44.100 campioni al secondo siccome il campionamento cioè la mia registrazione dura circa 10 secondi ci sono 4-500.000 campioni e sono tutti magazzinati nel file wave ok ciascuno di questi campioni è formato da 16 bit cioè 2 byte ok c'è un motivo chiaramente adesso lo vedremo brevemente ora quanti campioni ci sono tra la diciamo la valle di questo e la valle di questo se voi andate a fare il conto qui c'è scritto 780 qui c'è scritto 880 sono circa 100 ok quindi tra qui e qui ci sono circa 100 campioni allora se ci sono 100 campioni circa e noi abbiamo 44.100 campioni al secondo se noi facciamo 44.100 diviso 100 guarda caso fa 440 ok quindi questo significa ho scelto l'esempio del diapason perché è quasi ideale quasi perfetto io sostanzialmente ogni volta che il mio segnale la mia sinusoide fa un periodo ok e qui fa un periodo lui copre 100 campioni quindi io uso 100 campioni per campionare un periodo ok ora vi avevo detto prima che l'FFT qua è sostanzialmente l'energia del segnale o qualcosa del genere però questa sinusoide non è solo caratterizzata da un'ampiezza è caratterizzata anche da una fase perché io potrei prendere questa sinusoide e spostarla adesso io qua in realtà vi faccio vedere lo spostamento ma in realtà io sto spostando il grafico mentre immaginate che si sposti veramente la sinusoide allora se si sposta la sinusoide vuol dire che cambia la sua fase perché la sinusoide sarà caratterizzata da un'ampiezza da una frequenza naturalmente e da una fase ora la trasformata di Fourier dice esattamente quello e cioè che se io prendo un segnale ovviamente sono tutta una serie di requisiti di tipo fisico-matematico ma anche qui non vedremo se io prendo un mio segnale e poi lo campiono in modo opportuno riesco a ottenere un valore di magnitudine ok e poi un valore di fase i due valori messi assieme mi danno l'equivalente del segnale originario se io voglio partire dai due valori riottengo il segnale originale adesso lo vedremo lo vedremo meglio con le immagini perché secondo me con le immagini è ancora più cattivante ok bene quindi noi abbiamo sostanzialmente visto il nostro diapason e abbiamo scoperto che il nostro diapason fornisce un segnale pressoché perfetto come fosse una sinusoide e abbiamo anche visto che ci sono circa 100 campioni per campionare un periodo perché noi stiamo campionando a 44.100 allora uno potrebbe chiedersi ma perché campioniamo a 44.100 non l'ho certamente inventato io e il programmino sul cellulare campionava lui a 44.100 e chi di voi magari è più insomma più interessato alla musica saprà che questo 44.1 kHz è uno standard naturalmente così come anche uno standard di 16 bit questo perché il 44.1 kHz 16 bit permette di dare una riproduzione del segnale audio ottima molto buona non perfetta magari per i più perfezionisti ma comunque molto buona cioè anche se non sbaglio una versione a 96 kHz comunque diciamo che questa è la versione che viene usata per esempio per i cd quindi la qualità è molto buona ora per quale motivo è stato scelto 44.100 è stato scelto perché se non ricordo male c'erano anche ragioni puramente tecnologiche però la ragione principale dal punto di vista matematico è che 44.100 è poco più del doppio della massima frequenza che c'è che diciamo udibile dall'udito umano che è 20 kHz quindi in sostanza è stato preso il massimo valore udibile da una persona diciamo 20.000 Hz è stato raddoppiato e questo è diventato la frequenza di campionamento per ottenere per far funzionare il mio sistema ora siccome io qua sto permettetemi un po' divagando vorrei che farvi capire anche perché è stato scelto questo 44.000 ok diciamo 40.000 ok allora questo 40.000 è stato scelto per evitare di catturare male il segnale perché esiste un teorema importantissimo in cui tutti voi andrete a sbattere il naso che si chiama teorema del campionamento e dice che se voi volete campionare un segnale campionare significa prendere un segnale analogico e trasformare in un segnale digitale esattamente quello che noi abbiamo fatto ok esattamente quello che viene fatto ovunque per esempio i telefoni cellulari oggi come oggi non lavorano più in analogico lavorano in digitale quindi loro campionano il nostro audio quello il nostro parlato lo trasmettono in digitale e poi questo digitale viene ritrasformato in analogico per andare sull'altoparlantino del telefono perché altrimenti noi non riusciremo a sentirlo quindi in sostanza questo teorema del campionamento dice che se io voglio campionare un segnale devo campionarlo ad almeno il doppio della massima frequenza presente nel segnale ora tralasciamo i dettagli però se noi abbiamo che la massima frequenza è 20 kHz noi dobbiamo campionare ad almeno 40 kHz ok voi direte ok ma questa è una cosa interessante ma se io non campiono ad almeno il doppio che cosa succede ok e succedono delle cose un po' curiose allora per farvi vedere che cosa succede perché volevo farvi insomma farvi vedere qualcosa di interessante andiamo a guardare un filmato ok allora eccolo qua allora 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 questo filmato è un filmato del decollo di un aeromodello realizzato dal team Icarus del Politecnico di Torino ok questo è un aeromodello realizzato internamente al Politecnico ok questo qui era in particolar modo era una configurazione particolare però insomma non è qui il momento però guardate quello che volevo farvi vedere adesso l'abbiamo visto girare così guardate l'elica allora se voi vedete l'elica a un certo punto sembra fermarsi e invertire il suo moto ok allora vediamo se riesco a mostrarlo meglio allora eccolo qua diciamo così allora vedete che scusate eccolo qua aspettate ce la faccio allora rivediamolo ancora allora guardate l'elica sembra che giri da una parte ok accelera poi si ferma e gira dall'altra si ferma e rigira ancora voi capite che non è possibile c'è qualcosa che non quadra ok ora cosa c'è che non quadra il filmato è stato realizzato a è stato realizzato a aspettate vi faccio vedere prima questo è stato realizzato a 25 frame al secondo ok però l'elica dell'aeroplano va molto veloce allora guardate qui che cosa succede allora supponiamo che questa sia l'elica l'elica dell'aeroplano è un'elica a due pale ok e supponiamo che stia girando veramente per così allora io la disegno no e quindi la campiono e faccio un disegnino qua poi un disegnino qua vedete che sta girando su se stessa mi sono macchiato con la penna ok quindi sta girando su se stessa gira 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 e vedete che qua ci sono in totale ci sono 15 diversi campioni ok ora il periodo con cui quest'elica gira come potete vedere facilmente da lì e di 4 dei miei disegnini ok ora se il periodo è di 4 significa che io devo campionare con una frequenza opportuna ok perché altrimenti ho dei problemi ora guardate che cosa succede attenzione non sarebbe di 4 sarebbe di 8 solo che l'elica è simmetrica e quindi non si rende conto ora se noi campioniamo ogni 3 cosa significa campioniamo ogni 3 prendiamo l'1 poi prendiamo il 3 il 4 quindi ne saltiamo 1 sostanzialmente quindi in realtà non campioniamo ogni 3 campioniamo ne saltiamo 1 quindi prendiamo l'1 poi prendiamo il no scusate saltiamo 2 prendiamo l'1 poi prendiamo il 4 ok poi prendiamo il 7 poi prendiamo il 10 poi prendiamo il 13 allora voi immaginate di guardare solo questi campioni vedete l'elica che gira al contrario perché se voi la guardate vedete che questo è il primo campione poi questo è il secondo poi questo è il terzo questo è il quarto e questo è il quinto sta girando al contrario anche se in realtà l'elica sta girando sempre dalla stessa parte di prima se adesso noi campioniamo ancora con più diciamo con più agio ok tenete conto che se questo il periodo era 4 io avrei dovuto campionare ad almeno il doppio della frequenza quindi avrei dovuto campionare almeno almeno ogni 2 quindi qui campiono ogni 3 quindi è assolutamente insufficiente perché è più della metà ok ora se io campiono addirittura ogni 4 vedete cosa succede prendo l'1 prendo il 5 prendo il 9 e prendo il 13 la mia elica sta ferma ok apparentemente sta ferma quindi questo si chiama aliasing dal latino alias che vuol dire altro sostanzialmente o aliasing e sostanzialmente significa che io vedo qualcos'altro vedo qualcosa che non esiste perché in effetti questo non esiste e neanche questo ok ora quello che volevo farvi vedere era anche una cosa del genere noi abbiamo il nostro diapason noi l'abbiamo campionato a una frequenza molto alta e ci sono 100 campioni per periodo adesso vedete io qui ho usato della carta quadrettata per disegnare fare il mio disegnino ok allora il periodo di questa di questa di questa sinusoide come potete vedere è di 6 quadretti ok 6 quadretti ora quindi io devo campionarla almeno qualcosa meno di 3 quadretti preferibilmente molto meno di 3 quadretti ad esempio 2 ma molto meno se possibile allora se io lo campiono ad esempio ogni 2 viene fuori questo segnale qua ok io ho preso ogni 2 quadretti e gli ho fatto il disegnino in rosso ok vediamo cosa viene fuori io cosa faccio unisco i puntini ok faccio così poi faccio così 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 ok allora il segnale che ho ottenuto non è più una sinusoide però in realtà sempre il teorema del campionamento dice che una volta che io ho ottenuto i campioni per ottenere il segnale originario devo applicargli quello che è chiamato filtro di ricostruzione che è un filtro passabasso adesso senza andare nei dettagli praticamente si può trasformare questo filtro passabasso in una diciamo posso per così dire cercare la curva che passa per tutti i punti che sia un po' smussata ok quindi si possono usare un'approssimazione ecco quindi si possono usare ad esempio delle spline o altre cose comunque insomma questi sono dettagli va bene però tutto sommato il segnale c'è adesso invece io faccio un campionamento ogni 5 e quindi uso il blu ok quindi io cosa faccio di nuovo uniamo i puntini allora faccio così poi faccio così poi faccio così 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 ok ora a parte il fatto che abbiamo di nuovo da passare il nostro filtro di ricostruzione che appunto serve a smussare queste queste curve perché naturalmente questi sono punti angolosi e dove ci sono questi punti ci sono alte frequenze e le altre frequenze nel segnale originario non c'erano quindi vanno tolte comunque a parte questo vedete che comunque noi abbiamo una frequenza che è molto più bassa dell'originale e non c'entra assolutamente niente quindi questo è un fenomeno di agliasin dovuto al campionamento insufficiente ok quindi in sostanza noi abbiamo visto questo fenomeno dell'agliasin che come vi ho detto è molto comune in realtà l'abbiamo visto su questo su questo filmato ma c'è anche nelle immagini per esempio guardate qua questa è una fotografia del di uno degli scavalchi del Politecnico ok allora vediamo se ci riesco perché qua si ribella ecco qua ok allora se voi andate a guardarlo veramente dal vero vi renderete conto che qui ci sono delle grate io ce l'ho sotto gli occhi proprio in questo momento ma guardate vedete che qua ci sono delle bande che non esistono queste bande sono dovute all'agliasing dovuto a come è costruita la macchina fotografica digitale ok quindi questo fenomeno c'è anche lì ma c'è anche in altri c'è anche in altri luoghi per esempio il discorso dell'elica l'avrete visto o nei film o anche dal vero magari voi vedete un'automobile che parte la ruota è ferma poi comincia a girare in un verso a un certo punto si ferma comincia a girare nell'altro verso e poi magari si ferma di nuovo e riparte questo è dovuto al fatto che il nostro occhio ha anche lui un campionamento e questo campionamento è intorno ai 10 frame al secondo nel cinema si vede bene perché per esempio io posso creare un filmato a 25 frame al secondo a 50 frame al secondo ci sono dei cellulari che scattano film che generano filmati a 120 frame al secondo proprio perché in questo modo si riescono a vedere delle cose le cose in modo più dettagliato tenete anche conto che sempre per vostra curiosità se voi usate della luce stroboscopica che viene usata a volte in discoteca se la frequenza con cui viene accesa la luce stroboscopica non soddisfa correttamente il teorema del campionamento voi vedrete le persone muoversi al rallentatore ok e questo ovviamente è un fenomeno sfruttato bene adesso abbiamo visto questo io vi ho raccontato questa cosa che effettivamente con l'informatica non c'entra se non per il fatto che l'FFT è un algoritmo che è stato realizzato e sfruttato principalmente sul calcolatore mentre l'originale naturalmente l'ha trasformata di Fourier ora stavamo dicendo torniamo qua e torniamo al nostro programma Python ok allora questa è il nostro la degli apason ma come vi ho detto non c'è solo la degli apason prendiamo ad esempio il la della voce umana eccolo qua allora lo metto al fianco allora se ci fate caso è diverso nel senso che proviamo un po' ingrandirlo eccolo qua allora vedete qui allora lo vedete qua ci sono una, due, tre frequenze principali e poi ce ne sono delle altre questo è il 440 Hz che a voler essere precisi non è proprio 440 Hz vedete e circa 3 Hz spostato ok ma non c'è solo questo ci sono le armoniche che nel diapason non c'erano quindi questo è 440 e poi vedete 880 questo è 440 per 3 ok e sono queste 3 qua importanti ma poi ce ne sono anche di meno ce ne sono anche di scusate di meno importanti per esempio guardate qua qua ce n'è una vedete 4627 ci vede nell'angolo in basso a destra andiamo a vedere 4627 allora prendiamo qua 4000 allora scusate un po' più in là lo spostiamo ecco dovrebbe essere qui da qualche parte vediamo aspettate controllo soltanto che sia giusta perché allora ingrandiamo bene allora sì più o meno dovrebbe essere qua allora più o meno dovrebbe essere qua aspettate perché purtroppo la visualizzazione non è ottimale eccola qua vedete è debolissima ok se io la prendo la sposto eccola qua eccola l'ho trovata vedete ok era un filino spostata indietro 44450 vediamo un po' qua 4.000 ecco qua eccola qui vedete sì eccola qui 4.450 è questa ok ora voi direte interessante e cosa succede sulla sulla funzione e guardate guardate qua e guardate qua eccola allora se noi la ingrandiamo come prima ecco vedete che non è più una sinusoide non è più una sinusoide perché è una somma di sinusoidi è una somma di sinusoidi in questo caso tutte con la stessa fase più o meno però sono tante sinusoidi e infatti vedete che poi ci sono c'è anche un po' di sporcizia per così dire ok le alte frequenze questi questi pezzettini qua vedete 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 che notate che qui noi stiamo guardando il singolo campione quindi la frequenza di campionamento non è più abbastanza per vedere i singoli dettagli però insomma però è molto interessante perché vedete che qui era una sinusoide singola ok adesso aspettate eccolo qua ve lo ingrandisco di nuovo ecco qua ecco vedete qui è una sinusoide singola e qui ci sono vari pezzi benissimo allora questo dà proprio l'idea del fatto che la trasformata di Fourier per me FFT sta per fast Fourier transform e l'algoritmo per calcolatore però lo scopo originale diciamo che l'idea originale era di un fisico il cui nome era Fourier ok che ha letteralmente rivoluzionato questo tipo di campo ora questo significa che questa è una somma di sinusoidi ok e ce ne sono tante queste sono le tre principali tant'è che se noi andiamo a guardare la trasformata ne abbiamo solo tre di grosse diciamo significative bene andiamo a vedere il nostro pianoforte naturalmente vi ricordo che voi potete fare gli stessi esperimenti quando e come volete perché vi basta un cellulare un'applicazione per catturare i file WAV lo trovate facilmente e poi un programma Python da poche righe che comunque c'è qui nella documentazione ok ecco abbiamo il nostro pianoforte allora il nostro pianoforte è molto ricco di armoniche se voi andate a confrontare vedete come è ricco e se noi andiamo a prendere il segnale non fate caso al fatto che sia così perché la nota del pianoforte ovviamente è suonata in modo diverso però se noi andiamo a prendere un pezzetto di nota qua e poi la ingrandiamo ecco qua vedete cosa succede allora questa è per così dire la la nota principale e questi queste piccole note sono delle ulteriori oscillazioni dei ripple che si formano sulla segnale principale e sono ad alta frequenza proviamo ad andare a vedere a che frequenza sono ecco qua beh sì qua forse è un po' esagerato prendiamolo così ok qui da quanti campioni ci sono vanno sono poco più di 100 campioni quindi questo qui è il 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 nostro 440 Hz e poi in mezzo ci sono delle altre note allora andiamo a guardare qua allora vedete qui c'è anche del rumore a bassa frequenza questo rumore a bassa frequenza era dovuto al fatto che quando io ho campionato la nota del pianoforte c'erano si sentiva il rumore dei condizionatori quindi questo deve essere il rumore del condizionatore questo è il pianoforte la nota principale vedete che è 427 Hz e meno di 440 perché è un pianoforte antico e credo che nei pianoforti antichi non si riesca ad arrivare ai 440 perché la diciamo che la il 440 nasce da una convenzione del 1939 e penso che questo pianoforte sia addirittura antecedente al 1939 comunque vedete che c'è la la nota principale e poi tutte le altre vedete quante ce ne sono quindi la lo spettro del pianoforte è molto più ricco ha molti più armoniche ok e notate che questo è 440 va beh 427 questo è il doppio questo è il triplo non sembrano in linea perché questa è una scala semilogaritmica ok però non per altri motivi ora il suono del pianoforte sembra più ricco cosa vuol dire che sembra più ricco è un modo di dire no in realtà questo che noi stiamo guardando adesso cioè lo spettro l'FFT è quello che i musicisti chiamano timbro e dipende dallo strumento questa è la voce umana quest'altro è il diapason ok un clarinetto avrà ovviamente un timbro diverso ok d'altro canto l'intensità quindi l'ampiezza di questo segnale che qui noi lo misuriamo in campioni ok naturalmente dipende anche dalla distanza a cui io misuro ora questa intensità quindi quanto è forte la nota ora l'intensità come viene definita diciamo in ambito per così dire scientifico viene chiamato sonorità in modo soggettivo da sempre dai musicisti e la frequenza cioè il singolo valore per noi per gli ingegneri è una frequenza per i musicisti è chiamata altezza questo perché la frequenza percepita varia a seconda della persona varia a seconda di tutto diciamo un insieme di fattori soggettivi che sono molto difficili da correlare scientificamente tant'è che ci sono fior di libri sull'argomento ok per inciso direi che con questo esempio ho terminato volevo soltanto siccome io mi aspetto che tra di voi ci siano parecchi appassionati di musica magari lo già lo conoscete però volevo farvi vedere questo libro Andrea Frova fisica nella musica Zanichelli editore è un libro veramente notevole da cui ho anche tratto spunto per le cose che vi ho appena raccontato ok quindi se siete appassionati di musica e già non lo conoscete vi consiglio questo libro ora torniamo a noi perché io mi occupo diciamo il mio mestiere principale è sulle immagini mi occupo di immagini però prima di passare alle immagini volevo ancora farvi vedere una cosa perché questo diciamo che dovrebbe soddisfare un po' i fisici o quelli che hanno più una propensione per la fisica e ovviamente per la musica però io qua ho preparato anche un piccolo esperimento più da ingegneri ok allora guardate qua anche questo è divertente allora voi probabilmente molti di voi sapranno che i motori a scoppio quindi quelli che sono montati sull'automobili sulle motociclette moderne quindi lasciamo perdere il futuro elettrico sono quasi sempre a quattro tempi ok quattro tempi significa che c'è un'aspirazione una compressione un scoppio scarico ora la caratteristica del motore a quattro tempi è di fare uno scoppio quindi di fare effettuare lo scoppio una volta ogni due giri dell'albero motore ok allora io mi sono preso la briga sempre con il mio cellulare di andare a verificare questa cosa peraltro direi abbastanza ovvia ok e allora sono andato a catturare il segnale ok di aspettate che li allineo bene allora sono andato a catturare il segnale sempre con lo stesso programma eh sono andato a prendere un motore ho preso due motori una una moto di un mio collega un bmw 650 monocilindrico quattro tempi e poi la mia automobile quattro tempi quattro cilindri in linea ok dopodiché ho messo il telefonino sono anche fatto aiutare ho messo il telefonino vicino al tubo di scappamento in modo tale da raccogliere le onde acustiche in uscita e poi questo audio ovviamente l'ho processato esattamente come vi ho fatto vedere prima ora guardate qua noi abbiamo questo è il quattro tempi quattro cilindri e questo è il quattro tempi monocilindrico allora se noi andiamo a fare il conto ci viene fuori che se noi abbiamo 4000 rpm 4000 rpm significa 4000 giri al minuto che è l'indice che ci dà il contagiri se sono 4000 giri al minuto dobbiamo fare 4000 diviso 60 che fa circa 66 e poi facciamo ancora diviso 2 perché ho detto prima che fa uno scoppio ogni due giri dell'albero motore e quindi significano 33 hertz ok quindi significa che un motore monocilindrico a quattro tempi che gira 4000 rpm mi deve dare una fondamentale a 33 hertz ora prendiamo la nostra motocicletta ingrandiamo un po' e andiamo a verificare che è proprio 33 hertz eccolo qua vedete 33 hertz fate salvi ovviamente gli errori del contagiri e di tutto il resto questo è 33 questo se voi guardate è 66 99 più o meno 100 ok 120 130 se uno ingrandisce lo vede meglio 150 e giù di lì e così via ok queste sono tutte le armoniche voi direte si sente questa cosa si 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 sente adesso andiamo a guardare il motore quattro cilindri il motore quattro cilindri sono 33 hertz ma siccome ci sono quattro cilindri e i quattro cilindri non scoppiano mai tutti assieme scoppiano in sequenza noi dobbiamo fare 33 per 4 ok perché ovviamente ciascuno fa sentire la sua voce andiamo a vedere allora prendiamo il nostro solito ingrandimento eccolo qua vedete eccolo qua vedete 132 hertz giusto ci sono anche delle piccole armoniche sul resto però sono piccole perché il motore in questo caso quattro cilindri evidentemente genera un suono molto pulito dopodiché io ho provato a fare il siccome uno potrebbe dire è un caso non è un caso se io faccio girare il motore dell'automobile quattro cilindri in linea a 2000 giri al minuto ovviamente mi aspetto la metà perché lui gira la metà della velocità e se io vado a prendere qua il segnale vedete che siamo intorno ai poco più di 60 hertz notate che qui è un po' largo perché quando uno deve qui ci sono 7-8 secondi e ovviamente una persona ha tenuto premuto il pedale sull'acceleratore in modo tale da tenere il contagire a 2000 giri però non è detto che uno ci riesca perfettamente quindi questa frequenza si sposta leggermente e quindi se voi volete andare a vedere meglio questa cosa dovete andare a prendere dei piccoli pezzi di segnale insomma a vedere lo spettrogramma che però qua si vede poco perché sono frequenze basse ok tanto per curiosità se voi volete andare a vedere questo segnale qua e lo volete ingrandire vedete com'è vedete che tutto sommato è una discreta sinusoide non tanto bella ma invece se voi prendete ad esempio la motocicletta e andate a ingrandire la motocicletta il rumore della motocicletta andiamo a vederlo scusate un attimo eccolo qua eccolo qua vedete questa non è più una sinusoide perché ci sono un sacco di armoniche ok bene ok quindi qua ci siamo poi ah ecco ultima cosa questo vedete qui siamo a 6.000 giri al minuto sempre la motocicletta e quindi io mi aspetto che se qui è 4.000 e qui ottengo un valore qui mi aspetto un valore maggiore in effetti se voi andate a guardare è maggiore è tutto in proporzione ok infine qua questa è un'accelerazione nel senso che si parte dal minimo e si accelera man mano fino ad arrivare se non ricordo male a 4.000 giri o forse 6.000 giri al minuto vedete qui il segnale com'è confuso ok in frequenza perché si sono mischiate assieme tutte le varie frequenze allora se voi volete andare a vedere i singoli istanti allora voi cosa potete fare vedete che voi avete il vostro programma spettrogramma nano spettrogramma ok allora voi andate qui sotto e per esempio volete andare a vedere soltanto scusate ecco qua si l'ho scritto qua nei commenti vedete se voi andate volete prendere ad esempio soltanto un pezzo del segnale potete prendere ad esempio i campioni dal 100.000 al 200.000 e in questo modo avrete soltanto un pezzo dell'accelerazione e quindi se potete considerare il segnale in quel momento stazionario cioè la rotazione del motore fissa voi vedrete la situazione in quell'istante che in effetti è esattamente quello che fa lo spettrogramma perché se voi guardate qua vedete che man mano che vanno avanti i secondi compaiono le componenti a più alta frequenza però lo spettrogramma visualizzato così serve solo a dare un'idea qualitativa mentre se voi volete una idea quantitativa avete bisogno di andare a manipolare questa parte ora come potete vedere abbiamo visto un programma semplicissimo perché saranno un totale di 10 linee una volta tolti tutti i commenti che è in grado di fare cose già con un valore scientifico molto interessante ovviamente dipende dai gusti come sempre nella vita però dal mio punto di vista è qualcosa di decisamente interessante ora per finire siccome come vi dicevo io mi occupo di immagini vorrei farvi vedere qualcosa di ah scusate volevo ancora solo farvi sentire per vostra curiosità questo è il BMW a 4000 giri al minuto sentite le armoniche per confronto l'automobile a 4000 giri al minuto sentite che la frequenza è molto più alta si sente anche a orecchio bene bene ora quello che volevo farvi vedere quindi per finire questa prima sottoparte allora innanzitutto chiudo soltanto queste parti qua controllo solo di avere detto tutto quello che volevo dire sì direi di sì allora chiudiamo tutte queste siamo andati ovviamente il filmato è risultato un po' lungo ma volevo mostrarvi questa cosa interessante allora chiudiamo anche questo ecco qua bene molto bene allora a questo punto però io volevo farvi vedere qualcosa di relativo alle immagini per mia soddisfazione e magari interesserà anche a qualcuno di voi allora la trasformata di Fourier si può fare per i segnali monodimensionali ma si può fare anche per le immagini allora questa cosa ha un valore scientifico molto importante la trasformata di Fourier viene usata per un sacco di applicazioni scientifiche però qua io volevo farvi vedere qualcosa che è un'applicazione ancora più se vogliamo più semplice ok allora cominciamo ad aprire il Gimp che se ricorderete la volta scorsa avevamo installato ok ora cominciamo ad aprire un po' di file allora apriamo per esempio questo file eccolo qua no scusate aspettate ecco qua sbagliato questo file questo file qua ora questa immagine è una fotografia della mole ok questa o è casto o è polluce nessuno ricordo più se voi andate a ingrandire vedete che si vedono piuttosto bene i dettagli del capitello ok questa immagine è in formato tiff che è un formato piuttosto standard ora io cosa voglio fare beh tanto per cominciare a colori ok io voglio prendere questa immagine e fare la trasformata di furia dell'immagine ok e anche questo si può fare con un programma in python veramente piccolo ok bene allora però per semplificarmi un po' la vita ho bisogno che questa immagine sia in bianco e nero ok bene allora io cosa faccio faccio grayscale ok aspettate un attimo sì ok grayscale perfetto benissimo adesso l'ho portata in scala di grigio e io adesso la posso salvare quindi per salvarla devo fare export as e la salvo ok adesso la salvo e gli do nome questo ok va bene adesso per comodità l'abbiamo già salvata è qua ed è questa ok adesso io che cosa voglio fare voglio provare carichiamola carichiamola giusto per andare sul sicuro carichiamo open anzi scusate chiudo prima questa ecco qua così siamo sicuri di poi apriamo l'immagine in bianco e nero che è questa è sempre un tif poi adesso vedete che in realtà non abbiamo cambiato niente l'unica infatti vedete che il dettaglio il livello di dettaglio è buono vedete il capitello come si vede bene questa credo che sia una rete con tripiccioni o qualcosa del genere ok quindi la qualità è molto buona perfetto adesso io cosa faccio la salvo la salvo come la salvo faccio di nuovo export e la salvo in jpeg ok adesso qui ovviamente avevo già fatto il lavoro ma lo rifacciamo sopra la salvo in jpeg perché gli do questo nome 15 perché quando io faccio export vedete che qua do want to replace si vedete che qua mi dice qual è la qualità allora voi capite che avrete vi sarà già sicuramente capitato di salvare le immagini in jpeg è chiaro che qualità 100% è qualità ottima poi vabbè ci sarebbe un discorso da fare però chiaramente se io ci metto 15 è chiaro che la qualità è bassa ok quindi io faccio export ok dopodiché aspettate ma io qua la devo chiudere e riaprire perché se no allora mi riapro quella in bianco e nero e salvo un'altra vedete che qui è sempre quella a buona qualità ok sono controllata perché altrimenti l'esperimento non funziona io faccio di nuovo export e la salvo a 95% quindi il nome è quello lì faccio replace perché ce l'avevo già e qua ci scrivo 95% naturalmente se volete fate gli esperimenti con tutti i valori intermedi e viene export ok allora se noi andiamo a guardare quella a 95% vedete che è buona se noi però apriamo quella al 15% eccola qua ce l'abbiamo qua di fianco andiamo a guardare lo stesso capitello vedete che la qualità del capitello nell'immagine del capitello è nettamente inferiore e questo direi che non c'è dubbio alcuno ok basta ingrandire un po' scusate ecco qua vedete la differenza qua è molto consistente ok molto consistente vedete questa parte del capitello è completamente andata perduta lì benissimo dopodiché io quindi ho semplicemente realizzato due immagini jpeg a due diversi valori di compressione uno al 15% quindi veramente scadente nessuno salva mai al 15% e uno al 95% che anche lì non va bene perché è troppo ok ora se voi andate a guardare cosa succede? succede che il file il file originale era di 4,2 megabyte il file al 95% è un megabyte il file al 15% è 80k quindi significa che se noi salviamo il 15% abbiamo risparmiato un sacco di spazio su disco allora voi direte siamo a posto già siamo a posto perché? perché l'immagine è più scadente ora questi si chiamano algoritmi con perdita di tipo lossi perché in effetti perdono qualità mentre lo zip con il quale la gente salva le cartelle per esempio il materiale che metto a disposizione io è un punto zip quello è senza perdite perché nel momento in cui io devo decomprimere i miei file devono essere perfettamente uguali a prima perché sennò succede un disastro in questo caso posso anche non farli esattamente uguali a prima perché l'occhio umano tutto sommato se il file non è tanto ingrandito si accontenta ed è il principio del jpeg per inciso anche il principio dell'mp3 dell'audio funziona nella stessa maniera ora l'idea qual è? vedete che qua occupa molto meno spazio perfetto ma cosa devo pagare io? devo pagare in dettaglio benissimo allora questo dettaglio si va a riflettere sulle frequenze presenti nell'immagine perché il principio del jpeg è quello di togliere le frequenze più alte tanto più io voglio comprimere tanto più tolgo frequenze alte se tolgo frequenze alte tolgo dettagli perché le frequenze alte sono i dettagli ok? allora vedete che io adesso vado a prendermi il mio programmino che è questo qua che vedete che con una semplicità estrema cosa fa? apre il jpeg notate che una linea di codice apre il jpeg ovviamente anche qui ci sono le librerie qui vedete che lo devo lanciare con python perché non gli ho messo il meccanismo perché si lanci da sola poi calcolo la trasformata ok? della versione del 95% la mostro e la salvo la salvo in un file vedete? .png png è un formato senza perdite in modo tale non perdere ulteriormente perché altrimenti sarebbe un disastro cioè in realtà la trasformata si vedrebbe ugualmente però di solito si salva in png dopodiché faccio la stessa cosa per il 15% se carico il file al 15% ne faccio la trasformata e la salvo ok? bene ctrl x a questo punto io cosa faccio? python 3 perché se no non parte ok? 2d 2d automaticamente adesso vedete qua i file ci sono già però vedete sono del 25 luglio alle 16.43 e quindi sono di ieri quando ho fatto l'ultima prova ok? adesso io cosa faccio? lo rilancio e lui caricherà i file e mi rifarà le trasformate tutto in automatico vedete? ci impiega un attimo questo errore lasciavano stare non vi preoccupate più di tanto ok? e adesso noi abbiamo i nostri file andiamo a vedere i nostri file allora io cosa faccio? rimpicciolisco questa cosa qua questo è il nostro capitello eh? tanto per dare un'idea ed è lo stesso capitello allora qui facciamo così eccolo qua vedete? questo è lo stesso capitello benissimo adesso li apriamo sotto in corrispondenza la trasformata di furie corrispondente allora qui questo era al 95% quindi apriamo questa eccola qua questa l'ha trasformata vedete che è molto diversa da quella che abbiamo visto prima e adesso però vi spiego come funziona allora apriamo la 15 eccolo qua allora ora se guardate le due evidente la differenza la 95 si spinge più in là la 15 a parte il fatto che ci sono dei disturbi se vedete però a parte i disturbi questa è più concentrata verso il centro e questa è più ampia ok? ora come si legge questo grafico? l'altro era facile da leggere ma questo come si legge? e ve lo faccio vedere subito allora in realtà è abbastanza facile anche questo allora prendiamo ad esempio un altro esempio che è questo questa è un'immagine generata ok? questa è una sinusoide semplicemente inclinata ok? quale sarà la sua trasformata? vi ricordo che la trasformata di un segnale sinusoidale per esempio il nostro diapason è una delta cioè un picco ok? una linea sola qui siamo in due dimensioni la linea si trasformerà in un punto perché noi lo vediamo dall'alto ok? bene allora noi andiamo a prendere il nostro spettro ed eccolo qua vedete? eccolo qua vedete? questo è il centro e questo è il punto qua ce ne sono due perché? perché quando noi lo guardavamo per il diapason noi vedevamo solo il lato destro queste sono le frequenze per così dire negative non hanno in realtà un vero e proprio senso però di solito si disegnano ok? quindi voi fate finta di vederle solo da un lato e questo è la nostra frequenza e inoltre se volete c'è anche la fase ora la fase che è il secondo pezzo che vi dicevo la fase eccola qua vedete la fase è costante è un grigio standard perché? perché questa è una situsoide standard ok? quindi il jpeg che cosa fa? va a tagliare le frequenze più alte c'è tutte quelle che sono qua sui bordi per esempio qui avete tutta una serie di frequenze che si propagano per così sull'immagine poi per così avranno sicuramente una corrispondenza con le strutture della molla antonegliana ok? e per finire questo esempio sono andato un po' lungo ma secondo me era veramente interessante e vi faccio vedere ancora un altro esempio sempre su questo argomento allora torniamo indietro ecco qui allora prendiamo questa immagine ho insistito un po' sulle immagini perché siccome è il mio argomento allora mi piace questa è una fotografia del borgo medievale scattata all'epoca delle olimpiadi invernali di Torino nel 2006 adesso andiamo a prendere la sua trasformata eccola qui vedete che qui io non ho frequenze diagonali perché in effetti se guardo salvo pochissimo perché se io guardo come è fatta l'immagine è quasi tutta verticale e orizzontale ok se io adesso vado a prendere il la sua fase eccola qui la sua fase vedete vi ricordo che con fase significa con fase si intende che per ogni sinusoide questa sinusoide avrà il punto zero in qualche posizione quindi potrebbe essere un po' più a destra un po' più a sinistra nell'asse delle x e questa è la sua fase quando io ho delle immagini bidimensionali questa immagine vedete che ha la sua fase perché il suo zero per esempio è piazzato qua se io facessi slittare tutto come se fosse un tappeto questa sinusoide un po' più a destra la parte bianca sarebbe un po' più a destra ok e quindi la sua fase cambierebbe anziché essere quel grigio questo grigio qua sarebbe un grigio un po' più scuro un po' più chiaro ok questa è la fase della nostra immagine del bogo medievale incomprensibile però io vi ho detto e con questo finirò prometto che una volta ottenuta la magnitudine e la fase io se voglio riottengo l'immagine originale ok bene proviamo a vederlo allora io riapro questa immagine allora in questo caso se io rimetto assieme fase e magnitudine riottengo riottengo praticamente la stessa immagine originale ma io potrei prendere fare un piccolo esperimento mettere una fase fissa standard nulla o quasi nulla e usare solo la magnitudine questa è l'immagine che otterrei vedete ho ricostruito praticamente solo i colori perché questo è molto interessante perché il colore identifica sostanzialmente la frequenza e se vi ricordate noi nella magnitudine vediamo le frequenze e in questo caso noi vediamo soprattutto questo ok ora se io invece vado a prendermi l'immagine ricostruita utilizzando solo la fase vi ricordo che la fase indica la posizione e infatti se io ricostruisco solo con la posizione vedete che mi salta fuori l'immagine nel senso che io riesco a capirla all'immagine naturalmente non ho praticamente colori ok ora tutto questo spero che vi possa essere risultato interessante l'idea che mi ha portato a usare questo esperimento questa prova è farvi vedere come con poche righe di un codice python si possono vedere già delle cose estremamente raffinate notate che questi esempi che vi sto facendo vedere sono esempi che ho preso pari pari dalle slide del corso di email espressione in computer vision che è del quarto anno di ingegneria informatica ovviamente ci sono molti più dettagli però questo è quello che si può fare con poche righe di codice e se vi interessa avete un mondo davanti se qualcuno di voi per esempio suona il violino potrebbe provare a catturare la nota del violino e cercare di capirci qualcosa su quel libro che vi ho suggerito per esempio è spiegata la meccanica il funzionamento di tutti gli strumenti e come funziona anche la voce umana quindi spero di avervi mostrato qualcosa di interessante per cui direi che con questo la parte 5A è terminata aspettate e per cui termina qui ci vediamo per la parte B grazie 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 a tutti.